Completamento del Museo regionale della ceramica di Caltagirone, l'ex convento di Sant'Agostino, atto finale. È giunto a compimento, dopo un lungo e travagliato iter, proterattosi per oltre 30 anni, l'ultimo adempimento burocratico che, in virtù di un finanziamento pari a 8 milioni e 600 mila euro, sancirà il trasferimento definitivo a nuova sede. Oggi, alla presenza del presidente della regione siciliana Nello Musumeci, è avvenuto l'atto formale della consegna dei lavori. Il sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo. Intere generazioni di caltagironesi hanno studiato, sono stati educati, formati, sono cresciuti, hanno giocato al calcio, hanno fatto teatro, hanno visto cinema qui, nell'Istituto di Sant'Agostino. Doveva diventare già da tempo, e sarebbe dovuto essere così, il Museo regionale della ceramica. L'intuizione è della metà degli anni Ottanta, della seconda metà degli anni Ottanta. Purtroppo le cose non sono andate nel tempo come dovevano andare. E siamo arrivati quindi a questi anni nostri, di impegno intenso, costante, indefettibile. Ci abbiamo sempre creduto. E adesso posso dire, anche grazie alla vicinanza di questa amministrazione che ho l'onore di guidare con una regione siciliana guidata dall'onorevole Musumeci. Il sogno tanto inseguito si realizza. E tra due anni questo edificio risplenderà come quando sorse, ovviamente nei due secoli fa. Le fasi progettuali sono state curate e coordinate dall'assessorato ai beni culturali della regione siciliana. L'onerosa somma di circa 9 milioni di euro consentirà di pervenire all'adeguamento dell'imponente stabile, che come si ricorda è una struttura a tre piani che si estende su una superficie di oltre 2.000 metri quadri, caratterizzata dalla bellezza dell'antica cripta che, per come si evince dalle immagini, diventerà uno dei poli di attrazione di questo bene culturale. Voglio solo sottolineare l'impegno che il governo regionale sta approfondendo nel recupero delle opere d'arte, in particolare di quelle che hanno una storia e che possono essere recuperate per contribuire alla crescita economica e culturale di una comunità, come in questo caso il plesso di Sant'Agostino. Abbiamo altre iniziative in programma, anche nella città capoluogo, nel Calatino stiamo operando una selezione di progetti, perché il grosso problema è legato alla mancanza di progetti esecutivi. Fra qualche mese saremo in condizione di potervi rendere edotti delle iniziative che caratterizzeranno gli ultimi due anni della nostra gestione di questa prima legislatura.